IQ è un programma promosso da soggestioni che permette di mettere in contatto laureandi e neolaureati con alcune delle più importanti società di gestione del risparmio del panorama italiano e estero. IQ è fondato sulla base di una serie di incontri che vengono tenuti presso le maggiori università italiane e si concluderà con una giornata presso il salone del risparmio in cui gli studenti avranno la possibilità di candidarsi per degli stage all'interno degli uffici delle società di gestione stesse. Il risparmio gestito è una fonte di ricchezza e di crescita per gli investitori italiani, siano essi istituzionali, siano società, siano esse famiglie, quindi privati. L'industria del risparmio gestito italiano arriva a gestire fino a 2 mila miliardi di euro per famiglie, per società, per investitori istituzionali. Il risparmio gestito è una fonte di ricchezza che permette quindi alle famiglie e agli investitori di integrare quello che è il loro reddito e di mettere i loro risparmi nelle mani e nella gestione di coloro che grazie a anni di esperienza sono in grado di far fruttare questi investimenti. Io grazie a IQ sono riuscito a venire a conoscenza della società Invesco e sono riuscito ad entrare grazie a un contratto di stage all'interno dell'area commerciale della società. Appena ho iniziato a studiare avevo già la passione dei fondi di investimento e quindi essendo arrivato in Invesco non ho fatto altro che riuscire effettivamente a coronare quello che era il mio sogno, quello che poteva essere una mia ambizione. L'esperienza di IQ mi ha aiutato a inserirmi nel mondo del lavoro e mi ha aiutato a capire come farlo, quando farlo e a rilevare quelle che sono le opportunità migliori per il mio profilo.